Ecco un rinfrescante e caldo cartone con il nostro paperino! Adesso basta, fattorino paperino! Ai 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 ai! Oh, povero Falco! La signora della porta magica ti ha fatto un terribile incantesimo! Ha fatto in modo che tu non riesca più a volare! Ehi, questo corpo ha perso il controllo! Come facciamo ad arrivare alla porta? Benvenuti nel concerto d'organo del polpo! Una volta che il polpo avrà cominciato a suonare, non smetterà più! Perciò alla larga da lui dovete stare! Quei tentacoli rimacano velocemente, vedete? Da un tasto all'altro! Ecco come lo super evidenti! Rimacare velucinam! Tu всегда darias мне цветы! Это так! Oригинально! Anche stavolta il mio piano non ha funzionato! La mocciosa e il cane hanno vinto per colpa di quegli incapaci dai miei assistenti! Rassegnati! Contro di noi non potrai mai vincere! Ben detto! Staremo a vedere! Cracky avrà catturato il vostro amico Cippi e... Ehi, ma... Stai parlando di lui? Credeteci o no, è stato davvero rilassante! Oh! Gente, io...